Musica Sono le 12, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le notizie del TG2000. Nella nostra apertura andiamo subito in Siria dove sono iniziati i raid aerei russi nella zona di Homs ed è subito tensione con Washington e Parigi. Per il Cremlino è stato colpito lo Stato islamico mentre l'opposizione siriana denuncia la morte di decine di civili e ribelli. Vediamo allora dove sono cadute davvero le bombe di Mosca se effettivamente lontano dagli obiettivi del califato nel servizio di Antonio Soviero. Secondo l'opposizione siriana i bombardamenti congiunti dei caccia russi con aerei del Raiz sulle province di Homs, Hamma e Latakia hanno provocato 36 vittime civili. Una notizia da confermare ma che getta benzina sul fuoco, peraltro molto vivo, delle polemiche. Da subito Washington ha accusato Mosca di non aver colpito zone controllate dai jihadisti dello Stato islamico ma postazioni dei gruppi ribelli che insidiano le ultime roccaforti del presidente siriano Assad. Abbiamo concordato l'imperativo di trovare una soluzione al più presto per evitare un'escalation al di fuori del controllo di tutti dichiara il segretario di Stato statunitense John Kerry dopo il colloquio con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov nella sede dell'ONU. Anche il capo della diplomazia di Mosca giudica positivo l'incontro col collega statunitense ma nega che i raid aeri siano stati diretti contro obiettivi diversi da quelli dell'ISIS e conferma che i caccia russi hanno attaccato postazioni depositi di armi e riserve di carburanti degli uomini del califo. La necessità di agire in coordinamento è auspicata dall'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea Federica Mogherini secondo cui gli obiettivi sono due e vanno insieme, lotta all'ISIS e avvio di un processo politico di transizione in Siria. E per questo lo scoglio da superare resta sempre il futuro di Assad dal quale però Mosca si attende aperture verso le cosiddette forze sane della Siria. Resta da vedere quale siano dopo le bombe di ieri. E veniamo ora al Dieselgate. C'è posta per noi e in arrivo infatti una raccomandata firmata Volkswagen che ci dà appuntamento in officina se possediamo una delle vetture truccate. Come fare per sapere quali sono i modelli e gli anni di immatricolazione interessati? Ce lo spiega Leonardo Possati. Un difetto che non compromette in alcun modo il funzionamento e la sicurezza del veicolo. Volkswagen vuole dimostrare che lo scandalo del software che nasconde le emissioni di ossido di azoto in caso di test è un incidente di percorso, null'altro. Se ne assume la responsabilità e tira dritto. E dunque a giorni partiranno le raccomandate a 11 milioni di clienti nel mondo, 600 mila in Italia affinché portino le automobili in officina e il difetto venga risolto ovviamente a carico della casa automobilistica. Ricordiamo che si tratta esclusivamente di modelli Euro 5 prodotti dal 2008. Comunque tutti i possessori di Volkswagen potranno sapere se la propria macchina è a posto o meno. A breve infatti la casa di Wolfsburg inserirà nel proprio sito web una finestra di dialogo attraverso la quale sarà possibile, digitando il numero di telaio della propria macchina, sapere se l'automobile deve passare in officina. Certo è che lo scandalo, malgrado gli sforzi della casa automobilistica pronta a sobbarcarsi in un'operazione da 10 miliardi di dollari, avrà conseguenze pesanti. Se è vero che lo stesso ministro delle finanze tedesco, Schobel, ieri ha commentato «Alla fine Volkswagen non sarà più quella che era prima». Una frase che sembra tanto una pietra tombale al punto che c'è chi ipotizza un possibile smembramento del colosso automobilistico. Andiamo in Liguria, Genova, dove c'è un sospetto caso di ebola. Sarebbe il terzo in Italia. Si tratta di un ingegnere 25enne originario della Sierra Leone che da ieri è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova in isolamento nel reparto Malattie Infettive dopo che aveva lamentato un sospetto stato febbrile e quindi sintomi che richiamano appunto quelli del virus ebola. Previsti per oggi ulteriori esami clinici che sono quelli stabiliti dal protocollo anti-epidemia. Dopo i prelievi di sangue di ieri sera i campioni sono stati spediti a Roma all'ospedale Spallanzani. Domani i risultati dei test. E siamo alla riforma del Senato che sta surriscaldando l'aula di Palazzo Madama con il PD che evita il voto segreto con il contestato emendamento canguro. Oggi all'esame l'articolo cruciale, quello più discusso sull'elegibilità diretta dei senatori. Facciamo allora il punto come sempre con Augusto Cantelmi. Un politico ed educatore italiano. Senatore Romano. Ancora una giornata di scontri e tensione al Senato dove sono in corso le prime votazioni sulla riforma costituzionale. Un durissimo braccio di ferro tra maggioranza e opposizione sui singoli articoli. al centro della battaglia parlamentare il cosiddetto emendamento canguro presentato dal democratico Kochancic che fa decadere automaticamente tutti gli altri emendamenti presentati dalle opposizioni. Non è possibile procedere in questo modo. Le chiedo come minimo rispetto del Parlamento che ci dica nei momenti in cui dovesse venire approvato quali sono tutti gli emendamenti preclusi. ero rivolto all'altro lato e non ho potuto nessuno mi ha avvisato della sua richiesta. Quindi lasciate parlare. Mentre al Senato si procede con le votazioni previsti anche sei voti segreti vero banco di prova per la riforma il governo si concentra soprattutto sulla legge di stabilità da presentare il 15 ottobre. Punto centrale il taglio delle tasse come ribadisce il premio a Renzi in Parlamento. Quello che noi diciamo qui è che si elimina la tassa sulla prima casa per tutti e per sempre non rilevano le letterine europee l'Unione Europea faccia ciò che deve fare e noi facciamo ciò che dobbiamo fare. Una buona notizia. Salgono redditi e potere d'acquisto delle famiglie italiane nel secondo trimestre di quest'anno. Secondo le rilevazioni dell'Istat il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente dell'1,3% rispetto ad un anno fa. In parallelo l'Istat scopre anche una maggiore spesa delle famiglie per i beni di consumo e allo stesso tempo un calo della voglia di risparmiare. E c'è un nuovo servizio pubblico a disposizione delle famiglie italiane offerto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta del Family Line un portale internet ed anche un numero verde che con l'aiuto della regia e della grafica potete vedere in sovraimpressione potete contattare per avere informazioni sempre aggiornate sui servizi di assistenza, lavoro, fisco e casa. Sempre in primo piano anche l'immigrazione con la tragedia di Lesbo e gli arrivi a Reggio Calabria dopo lo sgombero forzato della scogliera a 20 miglia grazie anche alla mediazione del Vescovo dove era andata in scena per settimane la protesta dei migranti a giugno. Oggi 40.000 profughi saranno spostati dall'Italia verso altri paesi mentre Alfano smentisce che la situazione a Lampedusa sia di nuovo al caos. Luigi Ferraiolo Alla fine la mediazione del Vescovo di Ventimiglia Monsignor Antonio Suetta ha evitato ulteriori problemi i migrati attivisti dei centri sociali hanno lasciato gli scogli di Ventimiglia al confine con la Francia che occupavano da mesi dall'inizio dell'estate dopo lo sgombero di ieri mattina del campo no border accanto alla ferrovia i scogli dei Balzi Rossi sono stati in questi mesi il luogo simbolo dell'immigrazione di massa dall'Africa e dal Medio Oriente in Europa i circa 50 attivisti che si erano rifugiati sugli scogli hanno accettato di muoversi dopo un lungo dialogo con il Vescovo gli stranieri saranno accolti al centro di accoglienza della Caritas gli attivisti verranno solo identificati si è conclusa così una giornata che poteva finire tragicamente mentre proprio ieri il governo ha stimato che l'emergenza immigratica costerà all'Italia un miliardo di euro nel 2015 intanto per oggi sono previste proteste a Lampedusa dove parte il primo hotspot per l'identificazione di migranti voluta dall'Unione Europea che però si oppongono alla procedura significherebbe essere condannati a rientrare nei loro paesi continuano comunque senza sosta gli arrivi di stranieri sia in Italia che nell'est europeo 355 persone sono sbarcate a Reggio Calabria mentre oltre 4000 sono arrivate iè in Ungheria l'indifferenza e il silenzio aprono la strada alla complicità quando assistiamo come spettatori alle morti sono parole di Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale delle migrazioni diffuso proprio pochi minuti fa di grandi o piccole dimensioni sottolinea il Pontefice sono sempre tragedie quando si perde anche una sola vita umana i flussi migratori, aggiunge Francesco sono ormai una realtà strutturale e la prima questione che si impone riguarda il superamento della fase di emergenza per dare spazio a programmi che tengano conto delle cause delle migrazioni le storie drammatiche di milioni di uomini e donne interpellano la comunità internazionale di fronte all'insorgere di inaccettabili crisi umanitarie in molte zone del mondo e la gioia del Signore è la nostra forza perché in Lui troviamo la nostra identità sono parole di Papa Francesco che questa mattina ha ripreso le omelie nelle celebrazioni mattutine a casa Santa Marta dalle letture del giorno lo spunto centrato su cosa dà sostanza all'identità di un cristiano un'identità che può perdersi nel cammino spiega Francesco in tante deportazioni o autodeportazioni quando facciamo un nido qua e un altro là ma non nella casa del Signore come ritrovarsi dunque? coltivando la nostalgia di Dio risponde il Papa un cuore che non ha nostalgia non conosce la gioia e non può fare festa ha concluso Francesco negli Stati Uniti ora all'indomani dell'esecuzione della prima donna in Georgia dopo 70 anni sono state temporaneamente sospese altre due condanne a morte in Virginia e Oklahoma e proprio Papa Francesco aveva chiesto clemenza nel suo intervento al congresso americano ma in questo caso il rinvio è stato motivato da dubbi sul mix di farmaci da usare per l'iniezione letale sentiamo Marco Bergamaschi dopo l'appello del Papa al congresso per l'abolizione della pena capitale sembra che l'America inizia a porsi domande sulla condanna a morte sono infatti due le esecuzioni sospese negli Stati Uniti nelle ultime ore la prima vicenda riguarda il rinvio dell'esecuzione di un uomo in Oklahoma Richard Glossip lo stesso Papa Francesco in una lettera ha chiesto di comutare la pena di morte in una detentiva il governatore Mary Fellin ha deciso di sospendere la sentenza per 37 giorni una decisione presa per permettere all'autorità di valutare se i protocolli per l'esecuzione rispettino le procedure approvate dalle corti federali dubbi sull'utilizzo del cocktail letale di farmaci anche in Virginia dove un magistrato ha ordinato il rinvio a tempo indeterminato dell'esecuzione di Alfredo Prieto un serial killer con disabilità mentale ora nel braccio della morte i giudici dovranno ora valutare se il mix mortale di farmaci utilizzato per l'esecuzione è adeguato o invece rischia di provocare sofferenze ingiustificate per il condannato due rinvii avvenute a poche ore dall'esecuzione a Jackson di una donna a 47enne la prima degli ultimi 70 anni in Georgia sempre tramite iniezione letale in un mondo di muri Expo è un ponte così ieri il segretario di Stato Vaticano il cardinale Pietro Parolin visitando il padiglione della Santa Sede all'esposizione universale a Milano per noi c'era Luciano Piscaglia sorpresa per il grande numero di visitatori che fanno dell'esposizione un luogo di incontro in un mondo in cui purtroppo si moltiplicano i muri è stata la prima impressione che il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin ha avuto entrando nel villaggio di Expo 2015 una visita, la sua dedicata soprattutto al padiglione della Santa Sede e a Palazzo Italia dove è stato accolto dal ministro Graziano Del Rio un momento di condivisione e di comunione questo secondo il porporato può essere Expo un'occasione di incontro e di dialogo un ponte tra popoli, culture e religioni ha aggiunto riprendendo immagini care a Papa Francesco e più volte usate dal pontefice nel corso della sua recente visita a Cuba e negli Stati Uniti in un tempo in cui ancora troppi muri devono cadere mentre purtroppo si stanno moltiplicando i muri e questo ci dà una tristezza enorme perché pensavamo che i muri erano stati abbattuti tutti ma c'è sempre la tendenza a ricostruirli purtroppo occasioni come questa possono aiutarci a riflettere che l'unica possibilità di vivere insieme di vivere insieme umanamente di vivere insieme felicemente è quella di incontrarci in una esposizione universale dedicata a nutrire il pianeta il padiglione della Santa Sede l'edicola della Caritas visitati da più di un milione di persone hanno secondo il segretario di Stato raggiunto l'obiettivo di essere un invito alla riflessione sui grandi problemi dell'uomo e sulle risposte che la Chiesa offre quasi ha aggiunto la traduzione plastica dell'invito del Papa all'ONU a dare una risposta umana ai problemi vissuti da ogni persona e da intere popolazioni è tutto per questa edizione grazie per averci voluto seguire vi ricordo che l'informazione su questa rete torna stasera alle 18.30 adesso ci sono i programmi di TV 2000 e voi se volete ci rivediamo domani a mezzogiorno grazie 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 grazie